Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video settimanale pre-Pasqua, domani è Pasqua, vi faccio già sin da ora gli auguri di buone feste e in questo video servono per fare un po' più di tomodaci di gruppo tra di noi, anche raccontandovi un po' la retroscena della settimana, dei fuori onda, cose che magari non sono note a tutti all'interno del canale perché magari seguono solo YouTube e non vengono live su Twitch o non seguono Instagram dove invece queste cose sono un pochettino più presenti e anche per farci un pochettino del recapone, visto che le notizie e i video che pubblico regolarmente mi rendo conto siano tante, ma per fortuna almeno abbiamo qualcosa di cui parlare. Settimana del cacchio mi sono dovuto ricredere, è la settimana del Zerga che prende le sue convinzioni, le prende e ci fa un bel panino e se lo mette in bocca piangendo dicendo ragazzi, chi non cambia idea nella vita è uno stupido e io oggi, questa settimana almeno, mi sono dovuto ricredere innanzitutto su Stellar Blade abbiamo fatto la demo ieri, è uscito già anche il video sul canale e dopo averlo giocato mi sono effettivamente reso conto che non è solo un sedere che parla non è soltanto tutta la questione della sessualizzazione anche se molto di lato per il discorso perché il gameplay c'è del solido di Stellar Blade e mi sono anche divertito con la demo e adesso effettivamente ho ben chiaro ben chiaro quello che è l'obiettivo del titolo e mi sono divertito tanto, mi sono divertito tanto, lo avete visto durante la demo mi stava piacendo e quindi da quel punto di vista super happy aspettiamo allora veramente che esca per giocarlo, giocarlo su PS5 comunque ripeto, lì trovate un po' tutto il mio discorso ed è bello quando uno si sbaglia e rimane piacevamente colpito di qualcosa normalmente io mi conosco abbastanza e so quello che potrebbe entrare nelle mie corde quello che non potrebbe di Stellar Blade avevo sempre detto vi dovrebbe vedere l'unica cosa che lo può salvare per quanto è il mio gusto di tutto quello che è stato detto di tutta quella che è stata una gran pubblicità soprattutto proveniente dal discorso di Nick, io non sono un gran fan di Nick i culi in prima vista non è una roba che io proprio valorizzi tanto e la gameplay, il gameplay è soddisfacente per quello che l'ho provato a giocare quindi tutto il resto è noia e let's go, a parte vabbè i capelli con la coda lunga che è una roba indecente ma quello è un altro discorso quindi super contento mi sono dovuto richiedere anche su Dragon Stock ma due, chi ha seguito le live della settimana scorsa sa che io sono arrivato a un punto che ho detto ragazzi se io devo andare avanti così lo droppo e lo stavo per droppare io ho dato un ultimo tentativo cambiando classe al mio personaggio avevo iniziato mago, non iniziate mai mago ragazzi mi sto divertendo come un pazzo so c'ho 30 ore quindi mi sono ricreduto anche su quello quindi a volte bisogna anche essere comprensivi e avere un po' di determinazione nel non givappare subito le cose e di capire anche se a volte il nostro approccio è corretto o sbagliato di fronte a un prodotto soprattutto di fronte a una spesa di 80 e passa euro come in questo caso per il titolo Capcom quindi in verità poi sono uscite tantissime short carini tantissime tantissimi TikTok carini eccetera poi è stata la settimana del ban sì perché mi hanno pannato da TikTok live perché inneggiavo alla cos'è che mi hanno detto alla violenza no sfruttamento sessuale e offesa di genere e uno dice ma Zerga che cosa hai fatto avrei fatto una delle tue battute sarei andato oltre ti sei fatto prendere in fallo no ho acceso la live di Genshin ho messo un minuto è un minuto di live c'erano i ragazzi testimoni in cui vado dal punto A al punto B con Chiori e boom è venuta giù la live e ho dovuto fare ricorso ricorso che chiaramente ho vinto e di conseguenza puppatemelo fortissimo comunque TikTok si continua a confermare un'applicazione e un social che non può assolutamente salvaguardare un tipo di contenuto come il mio come il nostro so che ci sono altri colleghi che hanno avuto enormi problemi Lollo Codomo eccetera e quindi uno non è mai al sicuro su quelle live lì nel senso comunque la revisione arriva dopo sei sempre colpevole fino a prova contraria infatti poi la revisione automatica è stata fatta e lì probabilmente è stata una senealazione di un hater o qualcuno che gli brucia il culo con l'antuglia calda calda e vabbè sappiate che comunque per fortuna quella roba è stata risolta e poi boh io le live di TikTok le faccio spesso ma non le faccio costantemente anche perché ti demotiva un po' a farle queste robe comunque le porto le mando avanti se dovesse risuccedere rifaremo ricorso non ho perso neanche un euro visto che ve lo dico tranquillamente da quando TikTok credo che sia più di un anno credo di aver guadagnato 9 euro dai 9 ai 12 euro lusso ragazzi lusso e quindi è stata anche la settimana la settimana di quel ban lì più c'è stata di nuovo un altro smarrimento di un prodotto vi ricordate che vi avevo messo in programmazione due cose da una parte Alone in the Dark che purtroppo non sono riuscito a fare perché c'è stata l'introduzione di Stellar Blade che non sapevamo sarebbe uscita la demo proprio quel giorno quindi è slittato arriverà lo prometto e c'era anche Princess Peach il martedì Princess Peach signori non è mai arrivato ora io so che farò arrabbiare molti però io devo dire una cosa riguardo ai corrieri allora io lo capisco ragazzi lo capisco profondamente che facciate un lavoro snervante stressante che nel 2024 i tempi e i ritmi delle consegne degli acquisti online siano un qualcosa che c'è poco personale e più ognuno di voi ha tot minuti a consegne lo so è una merda me ne rendo perfettamente conto vi sono vicino motivo per il quale io scendo vengo giù al portone in quattro piani di scale senza ascensore vi vengo a prendere i pacchi o vi vengo anche in mezzo alla strada se avete il camioncino e posso farlo che è in doppia fila lo faccio continuo a farlo però dovete chiamare al telefono dovete almeno dovete almeno palesarvi dovete almeno dire che avete mollato un pacchetto a un chilometro da casa mia perché Princess Peach è stato consegnato a un chilometro da dove vivo io senza dirmi niente con una dicitura sbagliata ci siamo arrivati per chiamate e triangolamento neanche CIA neanche la teoria dei tre corpi ci ho dovuto fare per arrivare a capire dove era il pacco vado otto giorni dopo perché l'ho scoperto e l'hanno consegnato venerdì 22 io vado ieri correndo ovviamente ovviamente il pacco non c'era più quindi o se lo sono fregati o l'hanno riportato indietro ma nessuno mi ha mai notificato nulla ci faccio una figura del cavolo io verso l'azienda in questo caso Nintendo che me l'ha mandato loro poi ovviamente si rifanno su il gruppo di Corriere non vi dirò qual è il brand però sappiate che non è che boh è uno di quelli che creano più problemi e questo è un danno perché mettiamo che fosse ora io con tutto il rispetto di Princess Peach l'avrei sicuramente provato ma non era il titolo che mi portava ovvio Dio è il titolo che sto aspettando più dell'anno assolutamente no ma mettiamo che fosse stato Final Fantasy VII Rebirth o Dragon's Dogma 2 che ha anche un valore importante di 80 fette è passivo a livello lavorativo per me era un problema e io faccio un lavoro che non va a influire minimamente su magari cose importanti e intrattenimento ma una persona che ha una roba importante gli dovete almeno chiamare al telefono e per dirvi nel mio caso l'altro giorno per il pupazzetto di Frieren che non vedete ha sbagliato via e si è pure arrabbiato perché io non mi sono fatto 400 metri di salita per andarla a prendere poi hai realizzato che ha sbagliato via dopo ah scusa scusa me l'ha dato arrivando lui sbuffando ed è scappato cioè raga ho capito che avete un lavoro difficile ma poi dovete non dovete neanche mettere in condizioni le persone di diventare pazzi dovete citofonare e dovete chiamare se non ci siamo non mettete l'avviso di giacenza non ci sei se non avete neanche chiamato lo fanno tutti lo fanno tutti ed è un danno spesso e volentieri per me non indifferente questo è il motivo per il quale non avete visto Princess Peach ed è il motivo per il quale non ho Princess Peach ed è il motivo per il quale non so se mi arriverà Princess Peach vedremo lo scopriremo solo solo vivendo poi uno dice no anche le cose fisiche perché Zerga non compri più la roba fisica caspita il codice mi arriva subito boom lo butto dentro vado il fisico che è infinitamente più bello purtroppo mi attacco mi attacco al treno questo appunto era un piccolo sfogo riguardo è un'informazione riguardo a quello che è accaduto purtroppo su questo poi vabbè riguardo invece ad altre cose è stata la settimana anche della questione di Akira Toriyama post sull'ultima sull'ultima tavola corretta che c'è stata un po' di ci sono stati un po' di problemi riguardo all'interpretazione di questo aspetto cioè che molti dicevano che l'ultima perché si tende a mitizzare l'ultima tavola di Toriyama è stata proprio il disegno di piccolo che era il suo personaggio preferito che salutava e mentre si andava come se sapesse no era una correzione che aveva fatto alla bozza originale e semplicemente aveva detto l'ultima oltretutto e aveva preferito mettere quel tipo di inquadratura certo il destino vuole che sia stato proprio fatto in quel modo lì ci sono le coincidenze e sono coincidenze inoltre che rendono spesso più romantici alcuni significati che vogliamo andare a vedere stata un'altra settimana anche importante per un altro discorso Wuthering Waves che c'è stata la live che abbiamo seguito assieme la mattina dove hanno annunciato la data ufficiale anche se si sapeva già perché era all'interno del telefono andate nelle app del telefono c'era scritto 23 maggio verrà rilasciata il 22 in Cina noi con UTC più 9 il 23 di maggio e c'è la pre-registrazione che se si arriva almeno a 50 milioni si arriva al premio massimo quindi vi invito comunque ad andare a vedere quel video è stata la settimana degli annunci dei banner di Genshin Impact quindi con Nubile at Casa con i 4 stelle dove abbiamo rifatto il megavideo con tutte le build il palward il palward like Tencent che si è messo a fare due giochi simili palward vocifra non dicono che e quindi come dicevo in passato si è creato il genere palward e si porterà avanti Twitch è arrivato e ha detto che non si può più fare le live col culo in che senso vi ricordate che vi avevo detto che c'era stato quel vabbè c'è sempre l'Eymork Pie che aveva fatto le live col culo dove praticamente aveva messo un mutandone verde e col green screen giocava a Fortnite sulle suoi chapet ovviamente è arrivata Twitch subito dopo che l'ha vista e ha detto no non si può fare su parti erogene genitali e robe varie quindi è stato eliminato anche quello che è bello che è internet è stata una parte che mi ha fatto che mi ha fatto profondamente volare e in più arrivato proprio alla fine no della alla fine della settimana anche se non ne ho parlato nello scorso settimanale c'è stato il gioco di solo leveling che è stato per me profondamente deludente e che in gran parte soprattutto per quelli che lo stavano aspettando e che hanno si sono anche magari sbattuti con una VPN canadese per poterlo giocare sono rimasti abbastanza 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 delusi ecco aggiungo inoltre che mi ha colpito molto il mi ha colpito molto il finale di finale l'ultimo episodio che si pone verso non so quanto ne mancano ancora onestamente i dungeons food la piega che ha preso dungeons food che mi ha profondamente colpito perché all'inizio dungeons food lo guardavo come cosa che guardo quando mangio piano piano col tempo mi sono reso conto che stava prendendo una piega sempre più interessante e la parte del cibo diventava sempre più marginale adesso negli ultimi due episodi è diventato una cosa dove c'era sangue dappertutto problemi di istruzione e il che ha attirato totalmente la mia attenzione anche se già prima mi piaceva e da una parte l'ha anche un po' rovinato posso dirvi perché era il mio anime era il mio anime comfort tranquillo sai quelli che ogni tanto stacchi il cervello e ti guardi qualcosa di carino ma al quale non presti magari troppa attenzione ecco adesso invece sono lì con gli occhi iniettati cosa succede ansia qua gente muore oh mio dio vi prego state attenti mi raccomando quindi c'è quell'aspetto anche lì che mi è piaciuto un sacco ovviamente poi con tutti quelli che vi ho parlato nel video scorso da Frieren a Danger in my heart insomma tutta la serie di anime che sto guardando in questo momento diciamo che Dungeons Food questo è quello che ha avuto il cambiamento più importante ultima cosa aggiornamento sarò presente a Bari penso il 25 26 di maggio quindi la cosa è comica perché il 23 Show Modern Waves farò la live il 24 ci farò anche la live ma il 24 25 26 di maggio 25 26 di maggio sarò a Bari per la fine del Levante e quindi mi troverete là probabilmente farò anche live da là ora sto cercando di gestire un attimino la questione con anche altri creator quindi vediamo se amici di Bari siete in zona noi potremo già organizzarci con un mesetto e mezzo di anticipo riguardo a quello che potrebbe essere una bella fiera quindi c'è anche questo aspetto aggiuntivo scusate un po' la live un po' più di da scalica però la settimana che è andata tutto sommato ok con i suoi alti e bassi ma non abbiamo troppi troppi problemi ecco da questo punto di vista diciamo l'ultima cosa l'ultima 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 sono molto più contento di come stanno procedendo le live e i contenuti su twitch perché lo vedete che sono più preso bene c'ho il mantra sorridino ti arrabbiare divertiti e quindi sono un pochettino più concentrato rispetto a quello che magari potevo essere in passato e mi sento anche migliorato in alcuni video dove ho cambiato un paio di tagli e secondo me è tutto sta andando tutto un po' meglio nella direzione giusta la primavera sta arrivando i pollini pure però anche noi ci stiamo ripugnando questo vi ringrazio vi auguro veramente una buona pasqua e non mangiate troppa cioccolata e noi ci vediamo al prossimo video io andati set o zerga ciao belli ciao